L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha emesso tre avvisi pubblici per l'assegnazione di 15 milioni di euro per contrastare la povertà in Sicilia attraverso misure sociali. Nello specifico, 5 milioni di euro sono stati destinati all'erogazione di aiuti a persone e famiglie in situazioni di grande difficoltà socio-economica, marginalità ed esclusione sociale. Altri 2,5 milioni di euro sono stati destinati per fornire temporaneamente alloggio a persone e famiglie in attesa dell'intervento dei servizi sociali competenti. Infine, 7,5 milioni di euro saranno destinati ad enti che si occupano direttamente della distribuzione di pasti e generi alimentari o che organizzano reti per la raccolta e redistribuzione di questi beni a favore di persone e famiglie bisognose. L'assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali, Nuccio Albano, ha dichiarato che queste risorse saranno impiegate per rispondere concretamente alle esigenze di migliaia di persone in condizioni di povertà in Sicilia. Ha sottolineato la preoccupante diffusione della povertà, del degrado sociale nella regione, nonché l'aumento dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani e della microcriminalità. L'obiettivo è fornire alloggio e supporto alimentare essenziale a chi ne ha bisogno, combattere la devianza e prevenire l'abbandono scolastico. Le azioni del primo avviso sono suddivise in tre linee di intervento e rivolte agli enti. Il secondo avviso, con un finanziamento di 2,5 milioni di euro, è destinato a persone e famiglie in situazioni di particolare disagio socio-economico, marginalità ed esclusione sociale, con un isenon superiore a 6.000 euro. Infine, il terzo avviso prevede un intervento straordinario di 7,5 milioni di euro per affrontare situazioni di indigenza e bisogno alimentare. Il contributo massimo assegnabile a ciascun ente è di un milione di euro. Questo intervento include 1,5 milioni di euro per gli enti che erogano direttamente pasti e generi alimentari, 2 milioni di euro per enti che operano su due o tre province, 4 milioni di euro per enti che coprono quattro o più province della regione. Tutti gli avvisi sono disponibili sul sito istituzionale della regione siciliana.